Le novità che avremo per quanto riguarda il vecchio FUT, UTT adesso con i Sport FC, per Altime Team ricordo, UTT sta per Altime Team, verranno date, verranno rilasciate ad agosto. Ad agosto Electronic Arts ci darà ovviamente una bella infarinatura, ci dirà quello che uscirà ad agosto, ok? Quindi come sarà composta la Wiggy League, come saranno le Rivals, se ci saranno altre modalità, perché potrebbero essere aggiunte altre modalità che potrebbero stravolgere e cambiare magari il nuovo capitolo targato Electronic Arts, magari i draft potrebbero essere ritoccati, ovviamente ditemi qua sotto, fatemi sapere come andreste a ritoccare i draft, dato che comunque i draft ormai sono, si può dire, un po' obsoleti, cioè non sono più come una volta. Adesso devono comunque cercare di aumentare il range dei premi sicuramente, per quanto riguarda i draft, sono veramente poco e nulla, cioè non ti danno veramente nulla, non ne vale neanche più la pena forse giocare i draft, quindi le battles magari saranno con 3 minuti, quindi saranno più corti, sicuramente per i migliori esattamente ragazzi, confermo, concordo con quello che avete detto anche voi, ci vorrebbero dei premi diversi, ci vorrebbero sicuramente dei premi diversi per quanto riguarda i draft, per renderli anche più coinvolgenti. Le battles che ovviamente alla lunga diciamo stancano, saranno molto più brevi, quindi dureranno 3 minuti, ma tutte queste novità, in via ufficiale chiaramente, verranno svelate ad agosto come ogni anno, ok? Questa è una cosa importantissima. Altra cosa importante che bisogna sapere, esatto, Andrea bravissimo, quello che dico anche io, altra cosa che se voi bisogna sapere è molto 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 importante, è questa che è una notizia che è trapelata, ovvero il fatto che all'interno dei pacchetti, quindi dentro i pacchetti che voi aprirete, le carte potrebbero essere addirittura di diverse versioni, cioè mi spiego meglio, se magari avete in quella settimana un Holland che è team of the group stage, o magari è un inform, voi potete trovare sia la carta inform che la carta Holland base, ok? Voi immaginate con i team of the year, con i toti, trovare mappe toti e sotto mappe base, per esempio, cioè per assurdo, però potrebbe essere veridire, cioè è una cosa veridire ragazzi, ovviamente è tanta roba ragazzi, pensateci gli account sculati che troveranno mappe toti e sotto mappe base, li vedremo, li vedremo, non preoccupatevi che li vedremo sicuramente. Nella modalità carriera, questa cosa molto carina, ci sarà la possibilità di personalizzare il proprio pulmino, cioè il pulmino sarà ovviamente personalizzabile in base a quello che ci volete scrivere, con il colore che volete, insomma è una cosa più in più, una chicchetta in più, insomma, che non guasta mai, sicuramente. Un'altra cosa importante è che questa è la lista delle licenze e dei campionati che ci sono attualmente, vedremo se Electronic Arts ci darà notizie in merito per quanto riguarda la serie B, al momento non è presente la serie B a quanto pare, vediamo se ci saranno notizie in merito. Ovviamente ragazzi ricordo che l'accordo del Napoli, l'accordo della Roma, l'accordo dell'Atalanta, tutte le squadre che al momento non hanno le licenze, sono in stand by, nel senso che comunque non sappiamo se ovviamente riuscirà a trovare l'accordo oppure no. Chiaramente queste cose che si fanno durante l'estate. Ad agosto, secondo me, l'IA ci darà notizie in merito, al momento la serie B non sembra esserci, ok? Però ci sono la Champions League, c'è la Europa League, c'è la Conference League, la solita Premier, la Serie A, la Ligan, Bundesliga, eccetera, eccetera, eccetera. Un po' come tutti gli altri anni, quindi non cambia nulla fondamentalmente. Ma appunto da queste prime voci insieme a che non ci sia la serie B. Nulla di confermato, ripeto, non sappiamo ancora nulla a riguardo, però. Insomma, questo è quello che viene riportato, ecco. Sicuramente un'altra notizia molto interessante per gli amanti della carriera, secondo me, è questo, diciamo, questo talismano, ecco. Questa possibilità di andare addirittura a mettere la visuale allenatore. Cioè voi praticamente vestirete i panni dell'allenatore e vedrete da bordo campo i giocatori muoversi e potete dare delle indicazioni. E' una figata incredibile, secondo me, che dà un tocco di realisticità in più. Molto, 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 molto interessante. Tornando invece a FUT, come dice Andrea, un'altra cosa importante, come ha riportato anche il buon Donk, è il fatto che si potranno finalmente, finalmente, e dico finalmente, riscattare i famosi obiettivi, premi degli obiettivi, con un solo clic. Quindi ci sarà una spunta dove, ovviamente, tu cliccandola, hai tutti quanti, e dico tutti quanti, finalmente, i premi riscattabili. Ed è una cosa stra-figa, secondo me, perché, soprattutto all'inizio, quando sbloccate gli obiettivi iniziali, me ne compaiono tipo 10-15 da riscattare. Mentre voi, invece, con una sola spunta, avete praticamente tutti quanti gli obiettivi riscattati. E poi, se avete pacchetti, insomma, roba del genere, oggetti stadio, li troverete direttamente al negozio. Quindi questa è altra innovazione molto, molto, molto interessante, secondo me, ragazzi, che ci regala Electronic Arts. Sì, le carte Andrea, esattamente, le carte oro, chiaramente, facendo degli obiettivi, un po' come succede adesso, il Gimenez che è uscito adesso, quello della promo Level Up 2, per me è un antipasto di quello che vedremo in Sport FC24, perché quel Gimenez, secondo il mio punto di vista, ovviamente ha la possibilità di upparsi facendo determinati obiettivi. Ciò significa che con i Sport FC24 ci sarà la stessa identica possibilità, ok? Quindi, chiaramente, facendo... esatto, Andrea, bravo, bravo, facendo degli obiettivi, scalando gli obiettivi, chiaramente diventerà sempre più forte il giocatore. Non si potrà fare con tutti i giocatori e ci sarà, ovviamente, un limite per, ovviamente, far salire il giocatore a livello di rated. Altrimenti diventerebbe tutto 99, ragazzi, non avrebbe senso a quel punto. Sì, beh, è una cosa che somiglia tanto ai sport, cioè ai football, questa qui di Sport FC24, però vedete che sarà migliore, sicuramente. Vedrete, ragazzi, sì, possiamo paragonarla, quasi, quasi sì. Diciamo che tu ti cresci il giocatore, qual è la cosa figa. Quindi questo, diciamo, è un altro recapino che possiamo fare per quanto riguarda le notizie fresche e fresche del nuovo eSport FC24.